La notizia era ormai nell'aria da diversi mesi. Lo SNIM, Salone Nautico di Puglia, dal prossimo anno traslocherà a Bari nei padiglioni della Fiera del Levante. Ci sarebbe una insoddisfazione degli organizzatori alla base dell'accettazione della Corte Spietata del Capoluogo di Regione, che ormai da anni voleva trasferire il prestigioso Salone Nautico a Bari. Dunque, a partire dal 2015, con la tredicesima edizione, la Kermesse Marittima attraverso un accordo reso ufficiale in una nota dell'ufficio stampa dello SNIM, godrà dell'accordo siglato dagli organizzatori con i vertici della Fiera del Levante per organizzare un grande evento legato all'economia del mare. Nel corso dell'edizione 2014, il via invece a Brindisi sul lungomare Regina Margherita dal 30 aprile al 4 maggio prossimi, questa sinergia, come indicato nella nota stampa, sarà ampiamente illustrata come un primo passo verso un progetto più ampio dedicato ad uno dei settori trainanti dell'economia pugliese. I dettagli sulla collaborazione saranno comunque resi noti in una conferenza stampa organizzata per il prossimo 15 aprile a Bari, proprio nella Fiera del Levante. Quindi quella di giugno prossimo sarà l'ultima edizione brindisina dello SNIM. Che cosa perderà Brindisi perdendo il Salone Nautico della Puglia? Lo potremo solo capire dopo il bilancio della prima edizione barese. Sicuramente perderà una grande vetrina internazionale che attirava nella città atriatica migliaia di visitatori ogni anno.